Qual è la situazione dell'economia circolare italiana che si conferma leader europea e quali sono le richieste dell'associazione? Ci confermiamo leader europei, se noi guardiamo insieme il totale dei rifiuti italiani, quelli di origine urbana e quelli di origine industriale, noi raggiungiamo una percentuale di riciclaggio superiore all'80%, numero uno in Europa. Si può ancora migliorare, soprattutto nel settore dei rifiuti urbani dove siamo solo al 50%, che non è poco, ma è meno di quello che si potrebbe fare. E nell'indice di circolarità generale che ci dice quanta materia riciclata viene rimessa nel processo produttivo. Cosa si può fare per migliorare? Credo che basterebbe calibrare qualche incentivo, mettere qualche obbligo, per esempio, che sui prodotti nuovi una certa quantità di materiale provenga dal riciclo, differenziare l'IVA tra prodotti vergini e prodotti riciclati. Ecco, tutte cose che darebbero un'ulteriore spinta a questo settore.